Stanno per entrare in gamba le squadre, tra qualche secondo la pena arbitrale capitaneata da signor Mauro Gattice di Arezzo e su assistenti, Marco Scafragli di Arezzo, Lorenzo Lomorsi di Firenze, per qualche modo signor Daniele Lotti di Tivoli, vanno in via la partita e l'inizio di questa stagione per la permanenza del campionato di Rego Pro tutti a sostenere l'agrazione, agrindendo a pisare di Rego e forzare a rispondere a tutti La società che ha scettato i templi dà il benvenuto naturalmente anche ai tifosi e alla dirigenza del Mefi Calcio Grazie 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 Grazie.